Se cadete da una bella notizia, diciamo per me Ma senti questo? Che? Cominci a finire? Tu iniziare l'anno a parare e ce ne metti di piena E' normale, non è che quando la cava lì che dice Mi hai trovato in grande truffa, c'è un grande sacrificio Sì Anzi, non pensano a zero, vuoi fare nemmeno prato a uno o a mezzo Sì, io sono Quasi che la siamo perdita troppo Ti volevo dire una cosa, ma... Com'è che non c'è nessuno? E c'è? Un cuccio C'è un incorso, che c'è bisogno di una sentenza Vuoi di fare un intervento? No, una persona che ha il mio nonno Eh, questo è il mio nonno Perché 500 c'è, ci sono questi due Con una persona ci tiene un accordo In maniera altra che sappiamo che da quell'accordo c'è una percentuale Cuccio, ma senti una cosa, ma praticamente non c'è nessuno Quello non c'è nessuno Sì, io mi andavo a chiedere lo fatale Sì Pichiamo qualche malattia e stiamo andando a mezzo Comunque andiamo a bere Pichiamo la testa a fagare tutte le cose Che c'è? Devo prendere 500 euro Che ha detto che tu gli devi dare altri... Quelli che gli hai prestato 500 E fa, non ti dice niente E senti le piccole Ma vado con la scanna a baciolato Che stai chiarando proprio ci rompi i cuoi E non capisci Non capisci Noi capisci E dove si senti? Senti caldo eh Questo ci ho botto Bello Se lo faccio il botto Voi se lo faccio il botto E cssi Tu scolgo il canale sono due ferite sono due ferite sono due sono due ci mancano è tutto scantato mi stressano la mia cintura mi chiama Salvo, Domenico, Marcello mi stressano proprio ora hanno per ora uno che ci rompono piccola, femmina e fuso e non è praticamente 100 mila euro che operato è finito capisci? aspetta la mia cinta sui piccoli sto come sui 200 mila euro se si scantano se scappa capisci? lo fanno ora imbredare e non c'è una bevra e non c'è